Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 58esima puntata del podcast di Marcos Box. Iniziamo la settimana parlando di Covid-19. Google ha realizzato un report per meglio aiutare le persone e i funzionari della sanità pubblica a comprendere come sta procedendo la risposta al distanziamento sociale che è stata imposta dagli stati per combattere la pandemia da Covid-19. Il report offre una serie di dati aggregati e resi anonimi al fine di garantire la privacy degli utenti. Bene, quello che emerge da questo report è possibile vedere l'affluenza, come è calata drasticamente l'affluenza in ristoranti, centri commerciali che è calata addirittura del 94%, l'affluenza in farmacie alimentari, anche quella è diminuita su base, sul periodo sempre di riferimento, del ben dell'85%. Anche la mobilità verso parchi cani, giardini pubblici è diminuita del 90%, segno che la popolazione sta prendendo su serio queste misure di distanziamento sociale. È diminuita anche la mobilità verso stazioni di autobus, metropolitane, stazioni ferroviarie, perché la maggior parte della popolazione è costretta a stare a casa, non può andare a lavorare, quindi non si sposta e non si rega verso altre destinazioni. Anche gli spostamenti verso i luoghi di lavoro sono diminuiti, in questo caso una percentuale inferiore naturalmente agli spostamenti in generale, perché sono diminuiti del 63%, questo è dovuto al fatto che molte persone sono costrette a continuare ad andare a lavorare fuori di casa, basta pensare alle forze dell'ordine, al personale sanitario, ma anche tutti quelli che si occupano della distribuzione alimentare e quant'altro. Quindi è calato gli spostamenti per lavoro, ma diciamo così, non con le stesse percentuali degli spostamenti in generale. Il report che Google ha realizzato è offerto sia su base nazionale che su base regionale, così potete andare a sprucciare un po' come si comportano i vostri concittadini. Andate a vedere comunque un po' nel complesso i dati, è possibile notare come un po' tutte le nazioni europee hanno dati simili, percentuali simili di calo degli spostamenti. Quello che cambia è la percentuale degli spostamenti, ad esempio, nei paesi ex-roe, come la Corea del Sud, che hanno messo in atto delle politiche diverse per poter contenere la pandemia da Covid-19, con un monitoraggio degli spostamenti a mezzo applicazioni, con uso intensivo di mascherine, di tamponi e quant'altro, e quindi lì, se andate a vedere i dati, sono completamente differenti rispetto ai dati europei. Bene, comunque, è una cosa interessante, andatevi a dare un occhio. Se c'è qua fra di voi qualcuno che è esperto di numeri, di statistiche, vuole estraporare qualche dato interessante, lasciate un commento sul blog. Questa settimana ho poi avuto il piacere di ospitare tre articoli del mio amico Fatiman, il caro Alessandro, che ha pubblicato tre articoli che sono rivolti principalmente al mondo degli utenti Apple. Il primo riguarda DuckDuckGo Privacy Essential. Che cos'è? È una estensione per Safari che è, diciamo, di fatto una alternativa a un blocco origine che va a bloccare non solo script, banner e quant'altro, ma anche pubblicità. Questa, praticamente, questo plugin, questa estensione per Safari è possibile scaricarlo direttamente dall'App Store ufficiale dell'Apple. Ho letto alcuni commenti di utenti che lo utilizzano, quindi concordano sul fatto che il blocco della pubblicità è efficace ed è anche molto più leggero di alternative come, ad esempio, AdGuard che alcuni utenti utilizzano. Quindi, se siete utenti Apple e utilizzate Safari, dateci uno sguardo. L'altro articolo realizzato da Alessandro riguarda Keeping You Awake, che è un semplice software open source e disponibile su GitHub con una licenza MIT che ci permette di non far andare in automatico il MacBook in stand-by. Una volta installato è possibile impostare il tempo a piacere che noi possiamo dare. Abbiamo 5, 10, 15, 30 minuti, 1, 2 o 5 ore. Oppure addirittura una durata indefinita. Qual è l'utilità di questo software? Beh, in tempi di smart working noi non vogliamo lasciare che il nostro MacBook vada in stand-by, quindi non vogliamo andare nelle impostazioni di sistema, modificare le impostazioni di spam energetico globalmente, ma lo vogliamo fare soltanto per quelle due ore che sappiamo, dobbiamo lavorare, che stiamo attivi per quanto riguarda il lavoro, quindi noi ci impostiamo, che ne so, queste due ore dall'applicazione e per queste due ore lo stand-by viene inibito, quindi senza andare a modificare le impostazioni interne nella sezione di spam energetico del MacBook, che quindi rimarranno invariate e indipendenti. È un tool davvero interessante, utilissimo in questi periodi di smart working. L'ultimo articolo di Alessandro riguarda una sua esperienza personale nell'utilizzo di Firefox. Sapete bene che Firefox non è molto amante del consumo di CPU, spesso su Windows, MacOS e Linux, quindi è un bug, diciamo, multiplattaforma in questo caso, così come i browser, si vede un consumo eccessivo della CPU con conseguente aumento del calore ed innesto dell'evento. E questo era particolarmente vero anche sui MacBook, Alessandro ci racconta infatti che sul suo MacBook si avevano spesso le ventole che venivano accese senza motivo durante l'utilizzo di Firefox. Bene, con suo sommo piacere e stupore, la versione 74 ha ridotto notevolmente i consumi e gli consente una navigazione più stabile e fluida, quindi anche con consumi della batteria ridotti e ventole che non si innestano più a caso con l'utilizzo di Firefox su MacBook. Davvero interessante. Se avete un MacBook e avete notato anche voi questi benefici, fatemelo sapere e lasciate un commento su Marcosbox. Restiamo a parlare di Firefox con un bug che è stato scoperto dagli sviluppatori di Twitter. Twitter ha diramato un avviso ai naviganti che fanno uso di Firefox perché hanno scoperto che il modo in cui Mozilla Firefox archivia i dati memorizzati nella cache potrebbe generare un problema della privacy degli utenti comportando la memorizzazione involontaria di informazioni non pubbliche nella cache del browser. Se abbiamo effettuato l'accesso a Twitter da un computer condiviso pubblico tramite Mozilla Firefox e abbiamo effettuato il download del nostro archivio dati Twitter o magari anche i servizi on view o le recezioni di file multimediali tramite la funzionalità Direct Message di Twitter, bene, queste informazioni potrebbero essere state memorizzate nella cache del browser anche dopo la disconnessione da Twitter. Questo perché Firefox memorizza per l'impostazione predefinita la cache per sette giorni e dopo tale periodo vengono automaticamente rimossi dalla cache. Twitter, per risolvere il problema, ha implementato una modifica nel codice di Twitter in modo tale che in futuro Firefox non memorizzi più le nostre informazioni personali nella cache del browser. Se utilizzate o avete utilizzato in passato un computer pubblico condiviso per accedere a Twitter, il consiglio è quello di svuotare la cache del browser prima di disconnettersi. Dal canto su, il team di Firefox ha fatto sapere di stare investigando sul problema, quindi nel stretto giro dovrebbe essere risolto anche, diciamo così, in maniera nativa anche in Firefox. Ma le brutte notizie per Mozilla Firefox non si fermano qui. Mozilla Firefox da ormai diverso tempo è in una fase calante. è stato ormai surclassato da Chrome che ormai regna indiscusso nella classifica di diffusione di browser web e adesso Mozilla Firefox è addirittura stato superato da Microsoft Edge. Ha certificato l'ultimo report mensile, quindi aggiornato a marzo 2020, realizzato da NetMarketShare che ogni mese fornisce i dati relativi all'utilizzo dei vari browser web. Nell'ultimo anno Firefox ha registrato un caldo del 2,08% passando dal 9,27% di marzo 2019 al 7,19% di marzo 2020, facendosi appunto scavalcare Microsoft Edge che invece ha guadagnato un più 2,39% nello stesso periodo di riferimento, passando dal 5,20% di adozione al 7,59%, quindi 0,40% in più rispetto a Firefox. Molto probabilmente questo aumento della diffusione di Edge è dovuto anche al rilascio della nuova versione basata su Chromium, semi o che è l'utenza che sta iniziando ad apprezzare, che l'utenza Microsoft Edge nei confronti di Mozilla Firefox si è concretizzato infatti negli ultimi mesi, quindi in concomitanza con la diffusione in pianta stabile dell'ultima versione di Edge. Staremo a vedere nei prossimi mesi come si evolverà la situazione e se questo distacco sarà ulteriormente incrementato. Per gli amanti di tutti i pinguini lì all'ascolto, questa settimana è stata rilasciata la versione beta di Ubuntu 20.04, nome in codice Focal Fossa. Canonica ha annunciato il rilascio lo scorso 3 aprile nella versione desktop, server e cloud, ma anche per le edizioni, diciamo, di flavor ufficiali di Ubuntu, quindi Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu Bagi, Ubuntu Kirin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio e Xubuntu. In attesa del rilascio della versione stabile, previsto per il prossimo 23 aprile, qualora lo vogliate, potete scaricare l'eiso della beta e aiutare a testare il sistema al fine di contribuire a risolvere gli eventuali bug degli ultimi minuti. Io ora sto utilizzando Ubuntu in pianta stabile, anzi quasi stabile perché ho avuto una parentesi di una settimana, la settimana scorsa con KDE Neon, che l'ho provata per andare a testare le ultime novità di KDE Plasma. Dicevo comunque, questa ultima release di Ubuntu è davvero stabile, gira benissimo, le implementazioni che sono state fatte a Ubuntu, quindi le estensioni, rendono piacevole il suo utilizzo. Il nuovo tema, la nuova veste grafica, è piacevole anche da vedere, sia il tema GTK che il tema di icone, e bug rossi non ne ho trovati, a parte l'ultimo che, ma questo penso che verrà fixato a brevissimo, che con i download dell'ultimo abietro ho notato che l'installazione dei dev non partiva in automatico con il software center, ma penso che questa cosa verrà sistemata a brevissimo, poco male potete risolvere in questa fase installando GDB e installando quindi i dev da GDB o installandoli da terminale perché siete nerdi, quindi lo sapete fare. Speriamo, speriamo che questa versione di Ubuntu abbia una grande diffusione, a mio avviso è la migliore Ubuntu di sempre. Magari nei prossimi giorni pubblicherò un articolo a riguardo con le mie considerazioni su questa edizione. Io ormai sono diventato un Ubuntu addicted, prima non utilizzavo il nome per via delle sue incongruenze, i suoi soliti problemi, mancanza di estensioni per indicatori e cose le varie, adesso con queste ultime resi di Ubuntu ho trovato la pace mia e a mio amore in cuore ho smesso anche di utilizzare KDE, quindi mi trovavo molto bene con Ubuntu e ho fatto ciò ciò con la manina KDE, quindi abbiamo sencito per adesso la morte di Capitan Kubuntu, chi se lo ricorda è un utente di vecchia data del blog. Restando sempre in tema di Ubuntu è stata realizzata una remix di Ubuntu con D-Pin Desktop Environment. È una versione naturalmente non ufficiale, è basata sull'ultima LTS in sviluppo, quindi sulla 20.04, con la differenza sostanziale rispetto a Ubuntu che non ha GNOME ma ha D-Pin Desktop Environment, che è il Desktop Environment che trovate su D-Pin Linux. Un Desktop Environment davvero piacevole e ben fatto, molto piacevole da utilizzare, che è molto apprezzato ormai da diversi utenti perché i team di D-Pin sembra concentrarsi molto su usabilità generale, ma anche sulla realizzazione delle applicazioni che sono tutti coerenti con il sistema e quant'altro. Molti utenti però non preferiscono, non vogliono utilizzare D-Pin per i problemi con essere fatto, né una distribuzione cinese, bla 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 e quant'altro. Bene, adesso se volete provare D-Pin Desktop Environment avete una scelta in più grazie a questa remix non ufficiale di Ubuntu, che potete scaricare su Macro's Box e trovate il link per l'isola della versione beta. Naturalmente il team che esiluppa Ubuntu Desktop, Ubuntu Deep in Desktop Environment ha fatto sapere che manterrà aggiornato il Desktop Environment, quindi non sarà abbandonata al Stratagio. Speriamo, speriamo che non sia abbandonata al Stratagio e speriamo in futuro di vederla come frevo ufficiale. Vi ricordo anche che esiste anche un'altra remix non ufficiale di Ubuntu con Cinnamon, ve ne ho parlato su Macro's Box qualche mese fa, quindi se volete provare potete darmi una chance, a mio avviso. Però con Cinnamon lascia un po' il tempo che trovo, visto che abbiamo Linux Mint se proprio vogliamo utilizzare Cinnamon. Ha più senso questa Ubuntu Deep in Desktop Environment, perché appunto Deep in manca completamente una distro Ubuntu base su Deep in, quindi ha il suo senso di esistere. Infine questa settimana ho realizzato un articolo editoriale dal titolo Zoom e i problemi per aprirsi la sicurezza sino ad ora emersi. Nelle ultime settimane a causa della pandemia da Covid-19 ci si trova costretti ad utilizzare strumenti digitali per cura, didattica o semplicemente per poter restare in contatto con i nostri cari. Ovviamente a fare da padrone sono i servizi di videoconferenza e videochiamata, tra i quali SpiccaZoom, un'applicazione realizzata e sviluppata dall'omonima società con sede a San Giuseppe in California, fondata da Eric Wan, un ex manager prima di WebEx e poi di Cisco Systems. La rapida diffusione di questo software e la sua diffusione in ambito aziendale ha tratto molti esperti di sicurezza che si sono messi in linea ad analizzare i software e sono venute solo fuori una serie di criticità. A dire il vero queste criticità erano già presenti, sono state già oggetto di indagine anche in passato, nel 2018 e nel 2019, quindi prima delle PNP e del coronavirus, ma adesso, appunto, complice la grande diffusione dovuta anche al fatto che è stata consigliata da influencer su YouTube e quant'altro, non mi avete visto ma quando ho detto influencer l'ho fatto così con l'editina. Beh bene, che è successo? È successo che sono emersi in questo ultimo periodo diversi problemi riguardanti la privacy e la sicurezza, problemi riguardanti Facebook, problemi riguardanti il livello di criptografia che viene applicato alle videoconferenze, i bug che hanno esposto dati sensibili degli utenti, che hanno consentito anche la diffusione di video, di video su web con contenuti, diciamo così, anche privati e infine una delle ultime cose che ha attratto l'attenzione degli sviluppatori di sicurezza e degli programmatori che si occupano di questi argomenti è il fatto che alcune chiamate sono state instradate in Cina, a detta di zoom per errore, ma andatevi comunque a leggere l'articolo che ho pubblicato su Marcosbox, ci sono tutti quanti i link alle varie fonti dal quale ho preso tutte le informazioni e molto probabilmente verrà aggiornato non appena si scoprirà qualche altra magagna in questo software. Se lo utilizzate date una lettura a questo editoriale e traete le vostre conclusioni. In particolare andatevi a leggere quello che è stato pubblicato dai ricercatori di sicurezza del Citizen Lab dell'Università di Toronto, che sono molto esperti in questo settore, quindi di conseguenza sono notizie fidate, sono notizie certificate. Bene, con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, sperando che in questo periodo vi vada tutto bene, speriamo che non ci siano complicanze dovute a questo maledetto virus. Un saluto a tutti quanti, ci rivediamo la prossima puntata con il podcast di Marcosbox, ma ci troviamo ogni giorno su Marcosbox con gli articoli, le notizie e quant'altro. Ciao ciao!